Siamo con Giancarlo Faccio dell'azienda Laboratorio del Rame. Beh, direi che insomma non ci potevamo sbagliare su questo. Il tuo prodotto dell'innovazione in realtà è un procedimento, non è un prodotto. È un procedimento sul rame. Cosa viene fatto? Praticamente un procedimento con degli acidi particolari che lo rendono un po' etnico. Può essere esposto anche su una cucina molto moderna. Perché il contrasto... Il contrasto rende praticamente questa patina sopra che lo rende antico, lo rende. Quindi in realtà il rame viene diciamo ulteriormente trattato con un procedimento che si fa con l'utilizzo di acidi. Di acidi, degli acidi particolari che lo rendono praticamente ancora più antico, però su una base particolare un po' etnica che può essere anche esposto su una cucina molto moderna. È un po' il principio del design moderno, abbinare un elemento antichizzato in qualche modo sul moderno. Sul moderno, sì esattamente. Complimenti Giancarlo, questo è il tuo prodotto dell'innovazione. Grazie mille, alla prossima. Alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.